Ciao, anche da Bologna siamo operative con consulenze e riunioni online. Più tempo a casa, più tempo per sperimentare. Da Udine sono pronta per collegarmi via WhatsApp video con Giada, che ha scelto come argomento della sua consulenza online l'arte del bacio intimo. In Veneto il piacere non si ferma. Domani ho una consulenza su Skype con Claudia, poiché è rimasta da sola e ha deciso di dedicarsi un pochino a se stessa. Per questo l'argomento che ha scelto per la sua consulenza sarà il tempo del piacere. E qui sono in quattro ad attendermi per una bella riunione virtuale. Parleremo di geografia del piacere. E tu? Hai già pranotato la tua consulenza online? Scegli il tema che preferisci. Giocare da sola, giocare in coppia, autostima e padronanza di sé, l'arte del bacio intimo e molti, molti altri. Ti basta un computer, un tablet o uno smartphone per accedere al piacere mentre stai a casa. Vai su www.lavr.it e prenota la tua consulenza o riunione a distanza con la valigia rossa. Grazie. Grazie. Grazie.